Ciao a tutti ragazzi qui a Splash, bentornati su The Guardians. Oggi vediamo come trovare il Devil Joe, come sbloccare la sua missione e vediamo anche al volo le sue armature. Oltre a queste poi ovviamente saranno anche presenti le nuove alternative del mostro per ogni arma del gioco. Prima di cominciare però, sigla! Appena installato il nuovo aggiornamento ed arrivati ad Astera dovrete parlare con l'Erudito Gioviale, presente vicino al laboratorio botanico. A questo punto quindi comincerà la vostra ricerca del Devil Joe. Partite quindi in spedizione per la landa dei cristalli. Troverete facilmente le prime impronte del mostro appena arrivati all'accampamento. Facilmente comunque le troverete nella zona 5 e 6 della mappa. Dopo aver trovato circa 5 o 6 impronte del mostro questo verrà localizzato. Ora quindi seguite gli insetti fino a raggiungerlo per scoprirlo. A questo punto comunque non ci sarà bisogno di ucciderlo. Ovviamente se volete fatelo pure. Una volta fatto ciò comunque tornate ad Astera e riparlate con l'NPC. Chi vi sbloccherà l'incarico? Il re della catena alimentare nella foresta antica. Partite quindi per la missione e cominciate anche qui a cercare le sue impronte. Vi consiglio da subito di passare per la zona 1 sulla sinistra fino ad arrivare alla zona 9. Una volta raggiunto il mostro partirà il filmato dell'attacco del Devil Joe ad un gran jagras e alla nostra assistente che dovrete riuscire a liberare dal Devil Joe cercando di mandarlo a terra. E una volta fatto ciò inoltre potrete anche lanciare un SOS per far entrare altri cacciatori in missione in modo da avere una mano. Il Devil Joe come mostro sinceramente non mi è parso particolarmente ostico. Ha sì un paio di attacchi con una gittata bella ampia e soprattutto ha tantissima vita ma sono certo che una volta studiato bene riuscirete a sconfiggerlo. Inoltre non essendo un drago anziano il Devil Joe ovviamente può essere sia ucciso che catturato con le trappole e le sfere soporifere. Probabilmente scontato per i più però ve lo dico ugualmente. Adesso diamo anche un rapido sguardo alle armature alfa e beta di questo mostro. Anzitutto a video potete vedere le anteprime dei due set alfa e beta ovviamente leggermente diversi l'uno dall'altro. Vediamo quindi nel dettaglio la versione alfa poi ovviamente la beta avrà il primo e non il secondo talento della versione alfa. Per quanto riguarda l'elmo abbiamo Spaccamostri che incrementa le probabilità di spezzare o tranciare parti di mostri grandi e va da un più 10% con il livello 1 fino a un più 30% con il livello 3. Davvero ottimo. La seconda abilità invece è Artigiano che incrementa la capacità della barra acutezza. Tuttavia però non aumenta la barra oltre il massimo. Anche qui partiamo con un livello 1 a più 10 fino ad arrivare al livello 5 con più 50. Per quanto riguarda la cotta la prima abilità è Pasto Veloce che incrementa la velocità di consumo della carne e degli oggetti che onestamente si trovo utile ma non così tanto come altre abilità. E anche qui come seconda abilità abbiamo nuovamente Artigiano come accadeva sull'elmo. Per quanto riguarda i Parabraccia invece abbiamo Forza Latente che incrementa temporaneamente l'affinità e riduce il consumo di resistenza al verificarsi di determinate condizioni. E devo dire che è un'abilità che può essere davvero molto utile. Come seconda abilità anche qui come accadeva sull'elmo abbiamo inoltre Spaccamostri. Passiamo adesso all'Aspira che ripropone Forza Latente come prima abilità e Artigiano come seconda abilità. Ed infine abbiamo gli Schinieri. Anche qui due abilità già riproposte all'interno del set ovvero Pasto Veloce e Spaccamostri. E ovviamente poi per quanto riguarda il set beta ovviamente vi ripeto che sarà presente la prima abilità di ogni pezzo del set alpha togliendo appunto la seconda. Ma potranno essere inseriti dei gioielli all'interno di tutto il set. Bene ragazzi io direi che per questo video è tutto. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace ed un commento qui sotto. Iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi video e seguitici anche su tutti i nostri social. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Da Splash quindi è tutto ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!